Ciao a tutti ragazzi, io sono Bromati ed eccoci su Minecraft con le Build Battles Oggi mostrerò come si costruisse ai nabetti Però da solo, peccato No, niente, aspetta E vabbè gamer bro, volevo farlo con te sto video, però tu sei off E oggi nemmeno sei cosi poto fare, vabbè Vabbè, in nabetti E poi se te l'hai che si scopre che io sono un vero nab e poi voi mi dovete dare lezioni Raga se te l'hai che si penserete che la mia costruzione è fatta schifo Ok raga, 5, 4, 3, 2, 1, vai, si inizia raga Aspetta, lascia... Aspetta, lascia... Aspetta a giorgia Perché dove la vendi, un euro costa è un cannone vaga come è messo tutto qui vediamo come lo faccio il cannone vediamo ovviamente vediamo è un'esplosione è un'esplosione è un'esplosione Ehm... che vuoi stai costruendo ora? E io... Corì... Quindi sì... giusto? Raga, non so... Non so che cavolo stai a costruire, raga... C'è un cannone che è un sforzo... Sto sul bocchettino, ti sto prendendo fuori... Ok... Ok... Vediamo... E chi sta? Non, 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 perché? Ok, però... Hai scelto da questa scuola? Vediamo... E questo è un pillo... Cosa? Stiamo lontana questa scuola... Ok, vediamo... Con me lo ha scuola? Vediamo... Il giorno come ci prende? Dai, giro, smetti! Ok, raga, vediamo... Ok... Andiamo, ragazze... Io sto facendo una certa cosa così... E poi sto aumentando le scale... Che lui mi ha copiato... Non ce l'ho copiato, ma... C'è una cosa... Oh vabbè... Oddio, amore, raga... Oddio, amore, raga... Oddio, amore, raga... Oddio, amore... Oddio... Abbiamo solamente un minuto... Un piaggio... Un minuto... Un minuto... beee World time finish Prepare for voting Ok, dai Ok, questo qua mi piace Vabbè Non capisco molto Forse inglovo un cannone Dovrebbe essere Tipo uno schifo Non mi piace molto C'è proprio treple Vabbè Vabbè Dai Il più di tre, dai Massimo cinque, dai Il più di tre, dai Please Please Dai, dai Ecco cinque Ecco, perfetto E quattro Vabbè Ok, di nuovo cinque Bella Bella Rega Oh Dio Ok, rega Ok, raga Moderno Qualcosa di moderno Vediamo Un po' Sì, sì. Ah, io. Di il... Teppo? Oddio. Che... vabbè vediamo che mi va a fare vabbè prendo fans e qui aspettate Andiamo, ok. No, allora sono fuori anche da quello, sono una merda, appunto tanto, adesso che è tutto più chiaro, forse hai detto così lo capisci? Scusa, andiamo. Siamo allora. Scusa, andiamo. Scusa, andiamo. Scusa, andiamo. Scusa, andiamo. Scusa, andiamo. 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 O oraclisky io vedo un ok dai dai io vedo un ok dai io vedo no terribile anche se ho tappato no tipo uno schifo no via anche noi quindi poi siamo i terzi però dentro è buono sono due altre un altro dai dai un altro da un altro andiamo cosa è andiamo se la prossima andrà bene no tipo dai vediamo andiamo ok no, aspetta no così andiamo andiamo ok un formaggio mio, ricco in calcio e provvedine del latte e con il suo gusto che da sempre piace tanto ai bambini e crescere con il sorriso anche senza lattosio ricordo che quando comprare l'alto era solo un piacere con un insame è ancora così a febbraio, zero compromissi con un insame è ancora così a febbraio, zero compromissi con un insame è ancora così amm, due vatti via che raga però oddio 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 becca come gallo Buongiorno ok ragazzi ok ragazzi ok ragazzi ok ragazzi ok picchi dei soccano ok ragazzi ok 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 ragazzi ok 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 Ria Sì Ok Sì Non è Cacca, cacca, cacca Cacca, cacca Nia Uriana Uriana Nia 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 Nio 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 il video che si è qui domani tutto ciao